Intorno alla città si dispiegano bellissimi paesaggi, campagne, dulci colline con borghi medievali, valli e pinete secolari che si affacciano su spiagge di sabbia fine. Quest'anno Ravenna sarà protagonista di un grande evento, la Festa Nazionale dell'Unità. Una festa costruita con passione da migliaia di volontari, per regalare a tutti grandi concerti, incontri politici e ottima cucina. Benvenuti nella città del mosaico, benvenuti nella nostra comunità. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Benvenuti nella città del mosaico, benvenuti nella città del mosaico. Benvenuti nella città del mosaico, benvenuti nella città del mosaico. Gianrico, il PD c'è, è tutto per te. Io dico subito, caro figlio premier, il mio candidato è Gianrico Carofiglio, non è Giuseppe Conte, è Gianrico Carofiglio. Battute a parte, ne parleremo. Ne battute scusa, se l'ha discusso prima. Ah perché, no scusa. Tutto preparato ovviamente. No scusa, volevi dire che non è una battuta, cioè ti stai candidando. Sono venuto a posto. No vabbè, ne parleremo, ne parleremo. Però, insomma, partiamo da una riflessione un po' più generale, ma che ha anche a che fare con quello che sta accadendo in queste ore. Io mi metto nei panni di un italiano che è andato in vacanza ai primi di agosto, è tornato adesso, non sapeva niente, magari è andato molto lontano. Niente, il mondo si è capovolto, l'Italia, la piccola, povera Italia si è completamente capovolta. Il PD che ha litigato ferocemente per un anno con il Movimento 5 Stelle, forse ci fa un governo insieme. Salvini che ci ha governato allegramente per un anno, succhiandogli il sangue fino a rendergli un ectoplasma, decide misteriosamente di staccare la spina. I 5 Stelle che hanno considerato il PD il partito di Bibbiano si reinventano come partito di Bibbona, facendo la conversione a casa di Beppe Grillo, perché lì le cose funzionano così, la democrazia diretta evidentemente questo prevede. E niente, adesso rischiamo, rischiamo, poi capiremo adesso se è un rischio oppure no. Comunque, di passare dal governo giallo-verde al governo giallo-rosso, che è un triplo salto mortale con doppio avvitamento dall'esito assolutamente incerto. Che sta succedendo Gianrico? Tu come la vedi? Buonasera a tutti. Quando parlavi mi suggerivi e ci suggerivi di pensare all'italiano che è andato in vacanza all'inizio di agosto e arriva qui non avendo avuto accesso alla rete. Allora, ve lo ricordate Ritorno al futuro? Quando lui va nel passato e dice che Reagan è il presidente, sono gli anni 50, e ovviamente gli ridono dietro perché Reagan era un attore di film di serie B, e infatti l'altro gli dice che John Wayne è il ministro della difesa. E in effetti la vita riserva sorprese in molti ambiti, certo questi ritmi così fulminei, e devo dire anche queste emozioni, e devo dire anche questo, se non fosse una situazione drammatica, a questo fenomenale svago quasi circense, perché ricordate la pubblicità della carta di credito, fa le cose che non hanno prezzo, vedere le faccine del ministro della propaganda, mentre il redivivo presidente del consiglio lo sottopone a un pestaggio, diciamo così, davanti a tutto il paese, francamente era una cosa che non ha prezzo. Devo dire la verità, subito dopo si è ripreso con un intervento di altissimo livello culturale e politico, anche con citazioni raffinate in latino, ricordate amor omnia vincit, il problema è quando prendi le citazioni dalla Forismario e ti manca qualche piccolo dettaglio, quella è la frase che la priora della monaca di Monza nei Promessi Sposi, un personaggio spreggevole, non che altri sia spreggevole, sia chiaro, teneva sulla sua medaglietta, bisognerebbe stare un pochettino attenti alle citazioni. Perché comincio con questi riferimenti per rispondere alla domanda, alla prima sollecitazione? Perché qualsiasi discorso sulla fattibilità o non fattibilità di certi progetti di possibile accordo, qualsiasi questione anche su chi siano i protagonisti, su quello che hanno detto e quello che hanno fatto, soprattutto non può trascurare una cosa ovvia, e cioè che in questo paese sono state immesse, e rischiano di essere immesse in quantitativo ancora maggiore tossine spaventose. Un paese tutto sommato, in cui il razzismo era un fatto marginale, è diventato un paese in cui accadono cose che non ci saremmo neanche mai immaginati, nelle città come nei piccoli centri. Un paese in cui anche persone che prima ragionavano vivono la politica e in generale la vita e la convivenza civile secondo un sistema amico-nemico il più greve, il più insopportabile possibile. Laddove il nemico non è neanche un vero nemico, perché ciò a cui noi abbiamo assistito finora e cui assisteremmo, o spero di no, assisteremo se questi signori vincono, è un'ulteriore semplificazione in negativo del sistema della convivenza civile in cui bisogna creare dei nemici per creare la coesione di chi ti vota. Per intenderci sto parlando del ministro della propaganda e dei suoi amici, per non essere equivocato. E questo è un problema molto serio che si inserisce in un problema di carattere globale, in un sistema in cui alla creazione del nemico e alla negazione del valore della razionalità che è lo strumento per fare scelte intelligenti, viene attribuito il valore di bandiera politica. Questo è un pericolo mortale per la convivenza in questo Paese e fuori da questo Paese. Io credo che, fermo restando, che bisogna valutare con estrema attenzione non buttarsi a testa bassa e alla cieca in avventure pericolose, qual è la posta in gioco? E la posta in gioco è né più né meno che la qualità della convivenza democratica in questo Paese e tenendo presente questa posta in gioco, poi dobbiamo ragionare di cosa è opportuno, di cosa non è opportuno, di Bibbona, di Bibbiano, congiuntivi che sono stati un tema di cui ci siamo effettivamente interessati in passato e via discorrendo. Secondo me il punto di partenza è questo. Io ero in televisione qualche mese fa, mi hanno chiesto, secondo lei Salvini è fascista? E io ho detto che secondo me Salvini non è fascista, è peggio che è fascista. Lui come persona non mi interessa, lui è, come posso dire, il precipitato, la condensa di questi cattivi umori al tempo stesso è quello che li sfrutta per i suoi interessi di parte e personali, perché di interessi personali si tratta quando si discute di una crisi come questa. E rispetto a tutto questo bisogna opporsi, è peggio che è fascista, perché lui evoca peggio del fascismo la parte peggiore di noi, che è la parte che va alla ricerca del nemico pur che sia, che è la parte che trovandosi in difficoltà, in un'epoca complicata come questa, pensa che le difficoltà possano essere risolte proiettando tutto l'odio e tutta l'insoddisfazione verso i soggetti più deboli, più fragili, dal colore diverso, che vengono da un'altra parte e così via. Questo è semplicemente ripugnante, rispetto a queste cose ripugnanti noi dobbiamo riflettere su cosa fare o cosa non fare, naturalmente. Sì, d'accordissimo con te, d'accordissimo con te sull'analisi di Salvini e del salvinismo. Io sono sempre stato dell'idea rispetto a questo problema anche per tagliare le ali di tutti quelli che ogni volta quando evochi il fascismo ti dicono ah, quelli di sinistra, sempre la solita solfa, sempre con la favoletta dell'antifascismo, eccetera. Allora, non c'è bisogno di evocare il fascismo, non necessariamente, benché tanti fatti ci portino in quella direzione. A Roma, due mesi fa, dei ragazzi colpevoli solo di portare una maglietta in cui c'era scritto Cinema America, sono stati pestati da altri ragazzi che hanno usato il seguente argomento. Un tempo abbiamo, forse, credo, molti di noi, fatto a botte per la politica, no? Tu eri rosso, quello era nero, eccetera. Lì l'argomento è stato quindi voi siete antifascisti? E gli hanno menato perché erano antifascisti, solo perché erano antifascisti, non perché erano comunisti. Quindi, molti episodi ci riportano al clima del ventennio, però il problema non è questo. Non c'è la marcia su Roma, non c'è Dino Grandi che si prepara ad arrivare, non c'è il fascismo alle porte, ma abbiamo il leghismo dentro casa che è altrettanto, se non, come dici tu giustamente, più pericoloso. Quindi, questo già basta. Però, ecco, vengo all'altra parte del ragionamento e mi riallaccio a quello che dicevamo in partenza e in premessa. Se questo è il presupposto, no? E cioè, noi non è che rischiamo questa deriva, ci siamo già dentro fino al collo. In questo anno ne abbiamo viste di tutti i colori. Se ti interrompo, c'era quella meravigliosa, quelle vignette di Pericoli e Pirella sull'espresso di tanto tempo fa, in cui diceva oggi, oggi fino a qui. Naturalmente il livello era di un materiale disgustoso. Un giorno, oggi bisogna stare in punta di piedi. Ecco, noi dobbiamo stare al momento in punta di piedi e ci piacerebbe non dover stare così. Scusa l'interruzione. Assolutamente, sì. No, quindi dico appunto, non lo rischiamo, ci siamo già dentro. Però, naturalmente, la preoccupazione adesso è molto maggiore perché siamo in una situazione politica nella quale potrebbe accadere che se tornassimo alle elezioni a breve non abbiamo più il governo giallo-verde, benché nel governo giallo-verde i gialli siano stati totalmente ininfluenti alla fine. Questa è la mia valutazione. e abbiano consentito a Salvini di fare tutto quello che ha voluto, comprese leggi criminogene come i due decreti sicurezza, la nuova legge sulla legittima difesa, la circolare sui sindaci sostituiti dai prefetti quando la sicurezza viene messa a repentaglio secondo le regole di Salvini. Norme veramente fascistoidi, no? Ecco, però fatta questa premessa il rischio è che si arrivi ad un monocolore salviniano e quindi la torsione illiberale e antidemocratica perché questo è, lo teorizza lui stesso quando chiede pieni poteri e adotta come modelli di riferimento Putin piuttosto che Orban, quelle non sono democrazie parlamentari nel senso occidentale del termine, sono democrature, nel senso che il leader viene eletto ma poi applica politiche illiberali e lo teorizza, Putin lo ha teorizzato qualche settimana fa in un'intervista sul Financial Times agghiacciante, però quello è il modello. Ecco, allora, se però la mettiamo su questo piano, se questo è il pericolo, allora rispetto all'attuale discussione baciare o non baciare il rospo, la dico dal punto di vista del Partito Democratico, cioè fare o non fare l'accordo con gli ex nemici pentastellati è un tema che non si pone perché se tu rischi il, chiamiamolo così, il dittatore, capitano mitraglia a Palazzo Chigi da solo, da solo, beh, io faccio l'accordo anche col demonio per impedirlo, no? Ecco, intanto vorrei capire qual è la tua posizione su questo. Io personalmente sono dell'idea che, appunto, vedendo come te questo pericolo, sono incline anch'io a dire ma sì, proviamoci, vediamo che succede. Però mi pongo un'altra domanda e voglio sentire la tua opinione su questo. non sarà che stiamo ancora una volta rischiando quello che abbiamo già visto nei decenni precedenti, perché il PD si è sempre sacrificato in nome della responsabilità nei momenti più drammatici del Paese, diciamo il PD, la sinistra, la sinistra democratica di questo Paese. E parto dal governo Dini nel 96, quando cade il primo Berlusconi, e anche lì c'è da baciare un rospo, perché quello è stato ministro del Tesoro che ha fatto una riforma delle pensioni devastante, sulla quale poi quel governo cadde. Il PD, allora c'era D'Alema, si sacrificò, perché il Paese aveva bisogno di un governo in quel momento, i conti pubblici anche allora rischiavano di saltare per aria, il PD si sacrificò, dice ci togliamo di mezzo Berlusconi. Poi non ce lo siamo tolto di mezzo, perché nel 2001 ha rivinto e ce lo siamo tenuto per dieci anni. Lo schema si è ripetuto con Monti, in qualche modo, in forma diversa. Anche lì, Paese sull'orro del default, della banca rotta, e il PD si riprende la croce sulle spalle e dice, vabbè, mettetemi pure Monti sul groppone, mi tengo pure questo. Il risultato? Siamo qua, nel 2018, e rischiamo di ritrovarci, nel 2019, rischiamo di ritrovarci Salvini che governa da solo. Da solo. Allora, non sarà che questa nostra preoccupazione, la dico nostra di noi democratici, ma in particolare la preoccupazione del PD di essere una forza responsabile nei confronti del Paese, alla fine lo abbia portato e rischi di portarlo ancora una volta a svenarsi per fare in modo che poi, alla fine, i dividendi li tirino, comunque, li vada a lucrare, ancora una volta, quelli che ti sei illuso di fermare sulla soglia di Palazzo Chigi. Non c'è questo rischio, secondo te? Il rischio naturalmente c'è. Io non sono del tutto d'accordo sull'analisi dei fatti del passato, perché, per esempio, rispetto alla operazione Dini, quella fu una operazione, secondo me, di alta ingegneria politica in un momento in cui Berlusconi aveva incredibilmente e clamorosamente vinto quelle elezioni del 94 e molti di noi pensavano che ce lo saremmo tenuto per anni in un momento veramente difficile per il Paese. Dopo il governo Dini ci furono le elezioni e il centro-sinistra vinse, vinse con Prodi e avrebbe continuato a governare con il migliore governo della storia della Repubblica. Cerchiamo di ricordarcele. Un governo in cui c'erano ministri come Ciampi, Napolitano, Flick e potremmo continuare. Un governo in cui la competenza tecnica si univa alla competenza politica e l'immagine del Paese, i conti del Paese e tutta un'altra serie di questioni furono, non dico risanate, ma restituite a una dimensione di dignità, di autorevolezza, di peso del Paese nel mondo. Poi sappiamo come è andata a finire. Non è andata a finire male perché era stato sostenuto il governo Dini. è andata a finire male purtroppo perché il narcisismo in politica costituisce, come abbiamo avuto modo di vedere anche venti giorni fa per via del ex ministro dell'Interno e della sua ubriacatura personalistica, il narcisismo in politica è un fattore che va considerato. La crisi del del governo Prodi fu una crisi generata da un'uscita narcisistica di Taluni, ce lo ricordiamo tutti quanti, un'idea della politica non solo non condivisibile ma minata in profondità da una sostanziale dimensione personalistica attravestita per una prospettiva di grandi ideali. Sapete, io ho scritto un librettino per cercare di ragionare sul metodo della politica l'anno scorso e uno dei concetti chiave è contenuto nel titolo. Il titolo è con i piedi nel fango e prende spunto da una frase di Orwell che è stato un grande scrittore ma è stato anche un grande pensatore della politica lui diceva che i pensatori della politica si dividono fra gli utopisti con la testa fra le nuvole e i realisti con i piedi nel fango nessuna delle due ipotesi ci piace e la citazione nel titolo serve a dire che la politica si fa anche mettendo i piedi nel fango o le mani nel fango quando è necessario per aiutare qualcun altro a uscire da quel fango ma con lo sguardo ben orientato verso il sistema di valori ma bisogna entrare nel mondo reale che vuol dire fuori di metafora vuol dire che bisogna essere radicali nei principi e concreti nell'azione perché se uno è semplicemente radicale nei principi senza alcuna mediazione rispetto alla complessità del mondo reale in primo luogo sta facendo una pratica narcisistica ripeto in cui il compiacimento di questa radicalità diventa un valore e non uno strumento e in più ci consente di fare una citazione io le amo da qualcosa che diceva Keynes perché i radicali a oltranza dicono che nel lungo periodo vinceremo noi con le nostre ottime idee e Keynes diceva che nel lungo periodo saremo tutti morti questa è la premessa poi ci fu quello che ci fu in quella legislatura ci furono molti errori ma la questione capitale fu la caduta del governo Prodi quanti ti interrompo un attimo io perché non voglio inutile che ripercorriamo gli episodi del passato però anche quel passato ci dice qualcosa su questo paese nel 98 quando Prodi vince le elezioni scusami nel 96 quando Prodi vince le elezioni lo ricordò D'Alema Absit Ignuria cognome a Gargonza pensate un po' ve la ricordate Gargonza lo ricordò a Prodi gli dice occhio romano e quella fu presa come il prodromo dell'assassinio successivo del governo dei Prodi occhio che abbiamo vinto soltanto perché Berlusconi e Bossi non hanno fatto l'accordo la destra era ancora maggioritaria nel paese dopodiché si produsse quella rottura tra l'allora casa delle libertà e quindi la sinistra vinse per quello come anche nel 2008 rivinse per lo stesso motivo purtroppo no solo per la precisione storica diciamo non c'è dubbio quella cesura quella frattura all'interno della destra era il risultato di quel meccanismo politico che passò attraverso il governo Dini e portò a quello che portò quello che voglio dire è che le azioni anche coraggiose a volte rischiose il dare il sangue in certi casi non necessariamente portano a pagarla cara portano a pagarla cara se uno fa errori clamorosi il caso vistoso purtroppo è il dopo governo Monti dopo il governo Monti noi dobbiamo ricordarci che dicevano i sondaggi fino a poco prima delle elezioni i sondaggi dicevano che il centro sinistra e il PD avrebbero stravinto e poi bisogna riconoscere quello che è accaduto lo dice uno che ha votato con convinzione alle primarie Bersani che considerava e considera Bersani un eccellente uomo politico è stato un ottimo ministro ma purtroppo non ha saputo in termini di strategia politica in particolare di strategia della comunicazione questo va detto con estrema franchezza gestire quel passaggio così importante quelle elezioni del 2013 il PD le ha non vinte perché non le ha perse le ha non vinte per una cattiva se non pessima gestione di quella campagna elettorale quello era un calcio di rigore da tirare in una porta vuota e lo abbiamo diciamo così tirato sul palo perché è quello che è successo allora io non credo naturalmente non voglio dire che ogni volta che si fa un'azione di quel genere poi si percepisca un tornaconto politico ma neanche credo possiamo affermare che tutte le volte che si fa qualcosa di questo tipo poi la si paga detto questo in termini di sistema essendo del tutto consapevole ovviamente di quello che hai detto ma fa parte del quadro d'insieme se io fossi allora giochiamo se dipendesse da me io mi porrei il problema di ragionare trattare trattare in modo strategico e dirò soltanto questa cosa su come stanno andando le trattative e poi non dico più niente secondo me non è mai una buona idea all'inizio di una trattativa dire questo bisogna farlo per forza questo non bisogna farlo perché rischia di inchiodarti a una posizione dalla quale poi o non riesci più a staccarti o dalla quale devi staccarti perdendo una parte della tua credibilità o della tua dignità ho detto e ho chiuso su questo punto ma io andrei a trattare come si sta secondo me giustamente facendo ci proverei in tutti i modi naturalmente leciti dignitosi e consentiti consapevole del rischio di cui parli tu che fra sei mesi o dieci mesi risalti tutto io credo che il rischio non sia altissimo esiste ma non ci dimentichiamo e nella lettura del quadro questo va considerato che una variabile sono parlamentari che vogliono rimanere lì non è bellissimo da dire ma è un elemento da considerare nell'immaginare la potenziale durata di un governo che nasca su queste premesse e quando dico queste premesse intendo che una di queste premesse è che ci sono alcune centinaia di signori e signore che sono lì per le più varie ragioni magari se lo meritano anche a volte magari no ma che uscendo di là avrebbero o avranno qualche difficoltà a ricollocarsi questo è un dato da considerare ciò non di meno sono persuaso che il rischio di cui parli esiste ma proprio perché esiste io comincerei un'operazione di questo genere cercherei di trarne il massimo profitto politico eticamente compatibile e il giorno dopo tanto per non dare l'impressione che uno fa dei discorsi astratti farei subito una cosa e cioè mi metterei a fare la riforma della legge elettorale perché e che guarda il pericolo mortale di cui stiamo parlando in forme diverse tu e io e che credo sia avvertito da noi tutti quanti viene in gran parte stemperato se non innocuizzato da una legge che rimuova quel bizzarro pezzetto di maggioritario che c'è in questo sistema che in un contesto come questo in cui le destre andrebbero unite e le non destre diciamo così andrebbero disunite darebbe la golden share a Salvini e ai suoi amici non ci dimentichiamo di chi sono i suoi amici avete visto quel vice sindaco che si è presentato sul palco con se non puoi sedurla puoi sedarla una classe ineguagliabile abbiamo sentito parole molto decise da parte della segretaria del partito una donna su questa elegantissima considerazione quindi quando io dico bisogna provarci non solo dico bisogna provarci scommettendo sul fatto che duri tre anni bisogna provarci accettando il rischio che duri sei mesi io non credo io credo che se l'operazione viene condotta bene il che ovviamente non è facile potrebbe paradossalmente durare più a lungo tendo a rivendicare perché sembra che uno si sveglia una mattina e in base agli umori dice una cosa o l'altra che subito dopo le elezioni io ho detto in tutte le sedi in cui è capitato mi abbiano chiamato a parlare che secondo me bisognava provare a parlare con il movimento 5 stelle provare a parlare sono preso gli insulti diciamo più vari che poi sono diventati poi quei dei 5 stelle quando ho iniziato a parlare di loro quindi questo mi rende soddisfatto perché mi offendono tutti quanti questo mi fa piacere lo dicevo allora per due ragioni una di tipo più tattico e l'altra di tipo più strategico quello più tattico è che in una certa condizione devi adeguarti e cercare un pochettino di intravedere le possibilità quello strategico che noi non ci dobbiamo dimenticare è che nei tanti milioni di persone che hanno votato allora che tuttora voterebbero i 5 stelle c'è un bel pezzo come si dice con un'espressione consumata di nostra gente di gente di sinistra che per mille ragioni non ne ha potuto più c'è un serbatoio una riserva e un bisogno di democrazia che secondo me non va abbandonato al populismo del finto uno vale uno di Bibbona di Casaleggio delle piattaforme Rousseau va recuperato e va recuperato recuperato è possibile voi potete applaudire non a me al fatto che secondo me questo è il tema della democrazia oggi cioè di recuperare al confronto democratico grandissime sacche di elettori anche di idee perché uscendo ora dalla considerazione generale dal fatto che personalmente io cercherei di fare l'accordo e cercherei di mettere in sicurezza democratica il sistema esattamente con quell'operazione detto questo esistono una serie di punti sui quali non che si può essere d'accordo si è già d'accordo è il tema centrale è un tema centrale anche nella lettura complessiva della crisi e del possibile rinnovo delle democrazie occidentali cioè l'ambiente e su quello con questa gente si può parlare vedete poi ti restituisco la parola io non so ho detto che mi sono divertito a vedere il pestaggio in senato da parte di Conte a Salvini non sono un tifoso di Conte ho detto cose anche piuttosto nette in questo periodo però non mi dimentico alcune delle cose che lui ha detto nella seconda parte del discorso parlando sostanzialmente di un nuovo programma di governo perché è quello che ha fatto lui a un certo punto ha parlato di energie alternative di grandi investimenti sulle energie alternative e ha detto una cosa che non so se era una metafora o un simbolo deliberato o una cosa che è venuta per caso che secondo me sarebbe ancora più significativo perché lui ha parlato andatevelo a risentire se ne avete voglia di sfruttare l'energia che viene dalle onde fermatevi fermatevi un attimo è ovvio che lui stava parlando di una fonte energetica ma quale energia viene dalle onde e dal mare pensando a un futuro del mondo in cui i muri non siano la declinazione fondamentale della politica in cui le società si ibridano e rimangono vive proprio per questo io lì sono rimasto molto colpito ripeto non so se qualcuno ha avuto la raffinatezza di inserire in quel discorso una metafora di questo tipo ma quello che noi abbiamo davanti non è soltanto una scommessa su questo governo che si fa dura dieci mesi o magari tre anni è una scommessa io lo ripeto perché per me è una questione fondamentale sulla sopravvivenza della democrazia e dell'umanesimo per come li abbiamo finora conosciuti il nostro incontro aveva un titolo che era quello sulla gentilezza e il coraggio la questione della gentilezza vedete a volte uno parla di gentilezza a proposito di politica e gli chiedono che c'entra la gentilezza con la politica o ci vogliono le maniere forti o è una categoria non politica per me la gentilezza è una categoria politica se ci intendiamo se ci intendiamo se chiariamo di che cosa stiamo parlando la gentilezza non sono le buone maniere la gentilezza è la percezione dell'altro come metodo della politica l'accettare il fatto che ci sia un altro che la pensa anche molto diversamente da te l'accettare che il confronto della politica si svolge attraverso una procedura non distruttiva dell'altro ma dialogante sui contenuti quando i contenuti non sono spaventosi e accettare l'idea che a volte se qualcuno sapete io sono qualcuno lo sa appassionato da quando ero bambino di arti marziali l'ho sempre fatta e continuo a farlo è un principio fondamentale delle arti marziali che è anche riassunto nel nome di una delle più famose storicamente il jiu jitsu jiu jitsu vuol dire arte della gentilezza e che significa per un'arte marziale è strano sentir parlare di gentilezza la gentilezza è quando uno ti spinge invece di respingerlo e fare forza contro forza cedi alla sua energia gli fai perdere l'equilibrio e gli mostri che sta sbagliando se è possibile il conflitto può addirittura finire lì se tu mostri il torto o può non finire lì se lo scontro deve continuare a quel punto lo fai cadere a terra e vinci il combattimento prego di seguire la metafora questo è un tema che con la politica ha moltissimo a che fare la politica della gentilezza non è la politica della debolezza non è la politica delle buone maniere ma è la politica di chi è consapevole della sua forza è consapevole dell'esistenza di punti di vista diversi e soprattutto consapevole del fatto che questa pratica è il principale grimaldello per scassinare i populismi per far saltare quel dualismo che è il terreno di cultura dei populismi e dei fascismi amico nemico che si basa lo abbiamo detto prima quasi tutto su una invenzione demagogica tossica e violenta di un nemico che non esiste bravo applausi 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 sì sono come sempre affascinato dalle cose che dice Gianrico che sono tutte condivisibili però io continuo ad avere qualche difficoltà a calare il tuo elevato pensiero che è però sacrosanto anche nella politica svilita alla quale stiamo assistendo nella realtà quotidiana che viviamo e ritorno al tema anche io sono d'accordo con te un anno fa dopo il 4 di marzo se fossi stato l'allora gruppo dirigente del partito democratico avrei sicuramente tentato di infilarmi nelle contraddizioni che c'erano erano evidenti non tanto e non ancora nel possibile contratto di governo tra Di Maio e Salvini quanto proprio all'interno del movimento a partire dalla dalla elezione dei presidenti di camera e senato che era un terreno sul quale li si poteva li si doveva sfidare per vedere se davvero avevano il coraggio di fare scelte innovative che potevano rappresentare la base per aprire e verificare la possibilità di un accordo è stata fatta un'altra scelta abbiamo deciso di mangiare i popcorn l'abbiamo mangiati per un anno e nel frattempo Salvini è passato dal 17 al 38 adesso 35 sta scendendo sta scendendo un po' è sceso al 35 pensate un po' come stiamo ridotti va bene comunque detto tutto questo il sondaggio tecnè lo dava al 31 diciamo un range tra il 31 e il 34 comunque sta discretamente bene rispetto al resto delle forze politiche compreso il PD purtroppo allora riaprire oggi quel tavolo tu dicevi di Conte siccome Conte è uno dei temi oggi dal punto di vista della possibile ricongiunzione tra le due forze che non ci hanno provato un anno fa io l'ho sentito il discorso di Conte al Senato l'ho anche commentato sul mio giornale mi è piaciuto se non l'avesse con una piccola chiosa se non l'avesse pronunciato lui però perché dopo un anno in cui sei stato zitto su tutto non hai avuto il coraggio mai una sola volta di dire a Salvini oh fermati ci ha messo quattordici mesi per accorgersi che Salvini ha una visione distorta delle regole democratiche così ha detto quattordici mesi dopo l'ha capito e quattordici mesi dopo gli ha cominciato a dire guarda te lo dico adesso e non te l'ho mai detto anche l'uso e l'abuso dei simboli religiosi non si fa adesso lo dici adesso che è caduto il governo allora dico questo per dire che condivido al cento per cento questo sì nella linea di Zingaretti di oggi l'approccio al dialogo con i Cinque Stelle che parte dalla premessa che occorre è una radicale discontinuità se ci si vuole mettere seduti al tavolo una radicale discontinuità perché in questo anno sono successi dei fatti a proposito di quello che tu dicevi che io sottoscrivo riga per riga la politica come gentilezza il populismo che fa del rapporto amico-nemico e della costruzione del nemico la sua essenza beh è quello al quale abbiamo assistito quest'anno non solo da parte dei Salvini ma anche da parte del Movimento Cinque Stelle nei confronti delle altre forze politiche che non si riconoscevano nel perimetro della maggioranza la prima delle quali appunto è il partito di Bibiano oh l'ha detto tre settimane fa Di Maio mai mi fanno schifo il partito di Bibiano mi fa schifo ora per carità tu davi una visione come sempre nobile io sono legato ai tempi della prima repubblica mi ricordo che un grande vecchio della prima repubblica Rino Formica diceva che la politica è sangue e merda quindi scusate la parola per carità è l'arte del possibile quindi quello che era vero ieri non è vero oggi e viceversa per cui anche dei clamorosi volta faccia dei salti altri salti mortali tipo Renzi no possiamo dirlo è stupefacente che lo strappo iniziale sui 5 stelle l'abbia fatto Matteo Renzi è stupefacente ed è anche per molti versi un elemento che disorienta tanta parte di elettorato del partito democratico no? ecco però va bene ripeto la politica è l'arte del possibile oppure come diceva Rino Formica è quell'altra roba lì quindi non ci scandalizziamo però però intanto dobbiamo sapere che cosa è successo in questo anno non dobbiamo far finta che non sia successo e quindi il PD fa bene a mio giudizio il PD qualunque cosa significhi questa parola scusate se la dico in questi termini perché le forze che si muovono dentro il partito democratico sono per lo più talvolta oscure e comunque non sempre aggreganti comunque il PD oggi fa bene a dire ok vogliamo fare un governo insieme vogliamo provare a fare un governo insieme nessuno di quelli che c'era prima per favore nessuno di quelli che c'era prima è una condizione secondo me irrinunciabile anche a costo di far saltare il tavolo perché c'è un limite a tutto e questo ripeto poi secondo me questo nel tempo rischi di pagarlo perché vedi Gianrico io sono convinto di un'altra cosa e la storia secondo me ce lo dimostra soprattutto nella stagione del berlusconismo è stato evidente no ti facevo quella chiosa prima su D'Alema e Gargonza solo per dire che questo paese resta fondamentalmente purtroppo un paese tendenzialmente di destra è sempre stato più o meno così un tempo si diceva destra moderata i moderati non li ho mai visti all'opera se non ai tempi della democrazia cristiana dopo tutt'altro ma l'elettorato di sinistra per la storia che ha per i leader che ha avuto non è paragonabile né a quello della destra centrodestra o destra estrema come oggi quella di Salvini né a quella del movimento 5 stelle perché i 5 stelle non sanno cosa sono palesemente non sanno cosa sono hanno una formazione identitaria che è ibrida ce lo dicono i politologi studi dell'Itanes fatti già dopo le prime elezioni nelle quali si presentarono poi a maggior ragione negli anni successivi un terzo viene dal movimento dalla sinistra un terzo viene dalla destra un terzo viene dal non voto hanno messo assieme questa roba e come dimostra questo anno dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno dovevano essere un ircocervo si sono rivelati un camaleonte invertebrato cioè non sanno che cosa sono l'elettorato di sinistra lo sa che cosa è e sono anche convinto che la coerenza la coerenza un minimo di coerenza per un elettore di sinistra è fondamentale è importante i valori sono importanti i principi sono importanti lo sono per l'elettorato di sinistra molto più che per il resto dell'elettorato italiano che riguarda appunto Movimento 5 Stelle e destra allora detto tutto questo io non ho una soluzione netta però dico se si vuole trattare si deve sapere che cosa si sta andando incontro si deve sapere per esempio tu dicevi giustamente l'ambiente l'ambiente è una cosa meravigliosa però l'ambiente purtroppo in questo maledetto paese in questo maledetto paese è come la pace nel mondo capito cioè è una cosa che quando non sai che dire dici ma l'ambiente adesso abbiamo avuto Greta per fortuna ce ne fossero milioni come Greta il problema esiste il cambiamento climatico è un dramma guardate quello che sta succedendo in Amazzonia per colpa di quell'altro fascista che è Bolsonaro no? quindi il problema esiste però io vedo con grande preoccupazione una piattaforma comune in cui il primo riferimento che facciamo è l'ambiente non lo dico perché sottovaluto il problema il problema è enorme sono d'accordo con te è persino il primo forse che dovremmo affrontare ma dopo che hai diciamo buttato giù una piattaforma minima o massima sull'ambiente e dopo c'hai una serie di altri problemi che questo paese deve affrontare e tu li dovrai affrontare se non è Di Maio non so chi altro sarà se non è Toninelli non so chi altro sarà se potrai continuare con la galleria degli orrori ma mi fermo qui e che fai che fai quando da qui ai prossimi mesi avrai da fare la manovra economica 23 miliardi di clausole di salvaguardia dell'IVA voglio sapere come le disinneschi il reddito di cittadinanza che facciamo con il reddito di cittadinanza l'abbiamo il PD l'ha massacrato in tutti i modi dicendo che era una legge che serviva soltanto a far sdraiare sul divano i ragazzi sbagliando sbagliando perché quello è stato un terreno sul quale il PD ci doveva stare molto prima che ci stesse Beppe Grillo molto prima che ci stesse Beppe Grillo però una volta che se l'è preso Beppe Grillo il PD questo ha detto adesso andrà rifinanziato lo rifinanziamo? non ho idea il salario minimo che facciamo sul salario minimo? i Cinque Stelle lo considerano la panacea di tutti i mali sappiamo che per il PD non è così vado avanti la TAV sulla TAV sulle grandi opere che cosa facciamo? vado avanti parliamo di politica estera vogliamo parlare dei nostri rapporti con Mosca vogliamo parlare della Cina le vie della Cina sulla quale il Movimento Cinque Stelle non ha aperto una via ha aperto autostrade facendo infuriare persino Trump e avendo contro Salvini pensate un po' che cosa sono riusciti a fare questi insomma l'elenco volendo è lunghissimo è lunghissimo allora io l'ho intervistato alla radio una settimana fa diceva Del Rio giustamente noi ci dobbiamo sedere a tavolino e dobbiamo fare un contratto alla tedesca come hanno fatto SPD e CDU quando hanno rifatto insieme il governo cioè stiliamo fossero pure 600 pagine di contratto e negoziamo anche le virgole come però bene ok mi piace come però dimostrano i fatti di questo anno perché questi disgraziati un contratto l'avevano fatto faceva ridere ma l'avevano fatto non era la tedesca era la italiana ma il contratto l'avevano fatto anche qua la politica non la puoi rinchiudere dentro la gabbia e dentro la stanza di un notaio scrivendo un po' di clausole la politica è un divenire continuo la politica è il fuoco della battaglia quotidiana con problemi che vengono fuori in ogni momento di fronte ai quali appunto se non hai un governo coeso e faccio fatica a pensare che questo possa esserlo come puoi reggere l'hai ricordato tu prima il governo di centro-sinistra è andato a casa perché non era unito al suo interno il centro-sinistra non è unito al suo interno il PD non è unito al suo interno ti imbarchi col movimento 5 stelle adesso tra l'altro rianimato perché Salvini è riuscito anche a fare questo miracolo ha rianimato Di Maio adesso non sappiamo quanto il tubo dell'ossigeno reggerà ma insomma comunque il movimento si è rianimato tant'è vero che Di Battista adesso dice dobbiamo alzare enormemente la posta perché tutti ci cercano pensate un po' però questo dicono hanno comunque il 33% dei consensi e dei seggi parlamentari siamo sicuri siamo sicuri che pur dovendo ingoiare il rospo per tornare alla metafora iniziale per fermare Salvini prima lo volevi baciare adesso lo ingoio direttamente basta ho rotto lo ingoio direttamente per fermare Salvini che se no perché questo è un pericolo ripeto lo vedo il pericolo e lo temo come ha detto di nuovo Rino Formica in una bellissima intervista se non si ferma Salvini tra due anni si elegge il Presidente della Repubblica la Corte Costituzionale e il CSM se le legge tutte lui queste robe qua quindi il pericolo lo vedo è gigantesco ma come affronti i marosi che ti aspettano e dei quali ho elencato solo alcune onde potrei andare avanti molto a lungo su questa base come fai come fai io non lo so continuo ad avere molta preoccupazione quindi devo stare zitto è un dialogo questo signora adesso ho rimandato la provocazione a caro figlio io sono contento diciamo bene mi taccio me ne vado me ne vado saluto la signora la signora non non invece io ti ringrazio per avermi dato perché tempo perché io stavo volevo rispondere subito alla tua perfida provocazione su Conte voglio dirti subito che non riuscirai a farmi difendere Conte davanti a questo non ci riuscirai il fatto che lui abbia piena corresponsabilità di quello che è accaduto è pacifico è stata la premessa di quello che ci siamo detti il problema è che la corresponsabilità di quello che è accaduto non è solo di Conte che naturalmente ne ha più di altri perché era ed è tuttora ancorché dimissionario il Presidente del Consiglio la corresponsabilità è di tutti quelli che hanno votato cose anche vergognose a volte ben oltre il filo della costituzionalità da molti punti di vista e ovviamente se noi applicassimo il criterio non si discute nemmeno via tutti quelli che in un modo o nell'altro sono stati corresponsabili di queste schifezze non ci sarebbe la premessa per la discussione perché corresponsabili tranne i pochi coraggiosi dissidenti 5 Stelle sono quelli che stavano al governo e quelli che nel Parlamento hanno votato tutte quelle porcherie quindi la premessa che naturalmente è una premessa del tutto legittima dire non si parla con chi ha fatto queste schifezze è una premessa che però va portata alle estreme conseguenze se la premessa è questa non c'è materia per una discussione secondo me non è così ma rispetto un punto di vista come questo che contiene non un pezzetto di verità una grossa base diciamo così di argomento politico forte ed etico ed è ovvio che noi ci troviamo di fronte a una questione in cui si cammina sul filo in un certo senso se accettiamo l'idea che si possa discutere in una situazione di estrema emergenza democratica con una forza politica che è caratterizzata da una cospicua presenza parlamentare e una presenza governativa una forza politica dicevo che si è resa responsabile di cose che non è che non ci piacciono perché non basterebbe questo in alcuni casi cose molto brutte e se su alcune non siamo d'accordo in termini politici su altre siamo disgustati in termini etici dobbiamo deciderlo preliminarmente se stiamo parlando e su questo credo che siamo d'accordo ancorché con sfumature molto diverse della possibilità in una situazione di emergenza democratica di discutere anche con chi ha fatto cose che ci piacciono molto poco in un tempo molto ravvicinato allora poi si tratta di esplorare questo territorio qui adesso io vi trasferisco la mia opinione sul metodo della trattativa in questi casi che se è una trattativa che vuole ottenere un risultato deve fare una cosa diversa da quella che fai stra-legittimamente tu cioè non vedere tutto quello che ci divide perché se fai il percorso di quello che ci divide a metà strada hai detto addio ti metti le mani nei capelli e scappi l'alternativa è vedere se c'è che cosa non ci unisce ma su che cosa è possibile fare un pezzetto di strada insieme fermo restando però poi non vi preoccupate che ci avviamo la conclusione così andiamo a riposare tutti quanti ma fermo restando però che io non credo neanche si possa parlare di un'entità come l'elettore 5 stelle mentre entro certi limiti si può parlare dell'elettore di sinistra o di centrosinistra l'elettore 5 stelle non esiste non nel senso che non ci siano perché ce ne è tanti ma nel senso che sono tante cose molto diverse fra loro e noi li incontriamo per strada e lo sappiamo dagli studi di quelli che sono esperti di queste cose c'è gente di destra c'è gente cui non importa niente della politica ci sono i peggiori qualunquisti ci sono i terrapiattisti ci sono gli antivaccinisti ovvio che se andiamo in questa prospettiva anch'io scappo e dico ragazzi andiamo su in montagna diciamo e ci toccherà qualche anno di combattimenti però poi ci sta un sacco di gente l'abbiamo già detto prima ma non lo ripetiamo che è gente che la pensa come noi e che ha avuto una lettura diversa dalla nostra non dico necessariamente sbagliata io penso che sia sbagliata perché mi sono regolato in maniera differente ma non possiamo dimenticare le responsabilità che la classe dirigente della sinistra ha avuto nell'alienarsi non parlo del malcostume nell'alienarsi diciamo così non la simpatia dell'elettorato ma nel far percepire in maniera catastroficamente netta la politica come cosa altra rispetto alla vita io sono stato cinque anni in senato e era stata un'esperienza per molti aspetti affascinante per altri aspetti orrida ma beh però c'erano dei momenti devo dire abbastanza interessanti questo voglio condividerlo con voi ci sono ancora una volta sul discorso non apprezzo la ministra della pubblica istruzione che in un serrato dibattito in Parlamento a un certo punto dichiara che un certo provvedimento era stato approvato sotto l'egida del governo Prodi è un collega a fianco si alza con un ritmo perfetto vi ciao la prossima volta scrivetegli è pure erfonetico erano bei momenti bei momenti c'era la vice ministra vice presidente del senato che era anche stata sindaco di Lampedusa uno di quei animali mitologici della Lega una signora dalle analisi politiche raffinatissime devo dire con una dimestichezza un pochettino a volte zoppicante con la lingua italiana per invitare diciamo i senatori che non partecipavano attivamente al dibattito ma erano nell'emiciclo li pregava di non fare campanelli smettete di fare campanelli lì in mezzo all'inizio io pensavo che fosse una cosa che avesse a che fare con le consuetudini parlamentari forse che stare lì in mezzo significa fare il campanello tu sei un campanello no ella intendeva capanelli per dire è stata un'esperienza interessante anche in molti momenti assai divertente il viso del povero Bondi che adesso noi rimpiangiamo diciamo come fulgido esempio di virtù democratica mentre un fascicolo gli passava da questa distanza durante la discussione di una delle porcate diciamo di leggi poi stracciate dalla corte costituzionale anche quella fu un momento interessante e fuori dall'aula capitava di chiacchierare con questi signori e con rarissime eccezioni la percezione più netta e purtroppo questo valeva per certi aspetti più per i nostri che per i loro la percezione più netta dicevo era di gente che avesse del tutto perso il contatto col mondo reale e quando dico perso il contatto col mondo reale intendo che parlasse di questioni altre che non avesse la percezione al di là degli schemi stereotipi e convenzionali di quali fossero i problemi non della gente orrenda espressione non del popolo pessima espressione utilizzata ma delle persone del fatto che la politica ovviamente serve a quello dovrebbe servire a quello allora dicevo per riallacciarmi a quello che ho detto prima non è che non ce l'abbiamo anche noi le responsabilità per quello che è successo per il fatto che tanti elettori di sinistra alcuni bravi ma io parlavo con dei vecchi militanti del pc che hanno votato movimento 5 stelle ovviamente soprattutto in certi momenti mi innervosivo terribilmente però poi questa era gente che non è che è ancora di sinistra è di più che ha pensato che quello potesse essere un modo di far saltare il banco o ha pensato che quelli fossero di sinistra o quello che vi pare la questione è che quelli sono come dire animali mimetici perché non c'è una natura specifica sono stati con la Lega e hanno fatto quella roba là può succedere che in compagnia diversa con una conduzione politica intelligente con un no un pizzico un bel po' di fortuna e con una serie di altre circostanze possa anche venirne fuori qualcosa di utile il che non significa affatto dimenticarsi di quello che hanno fatto non cogliere le enormi differenze che sono soprattutto differenze culturali ma vuol dire al tempo stesso percepire che abbiamo l'abbiamo detto più volte un'emergenza democratica e abbiamo dei problemi e se tu sei d'accordo io concluderei se non avevi altre cose volevi dirmi altro? no se volevi no perché io ho una storia che voglio raccontare come conclusione ci tengo ma se tu volevi dire qualcosa no allora no tanto sono siamo stati il tempo per cui ci hanno pagato ora non capisco se applaudiate perché siete contenti che ci hanno pagato diciamo io credo che quando ci si trova di fronte ai problemi come diceva il grande Wolf di Pulp Fiction bisogna cercare di risolverli io risolvo problemi e io ho una storia bellissima sul risolvere i problemi che racconta non essendo una storia politica quello che per me dovrebbe essere il metodo della politica in generale e oggi in particolare è una storia che ho raccontato in quel libretto di cui vi dicevo e conclude quel libretto perché lì c'è una riflessione su varie questioni che hanno a che fare sul come secondo me bisognerebbe fare la politica però poi al di là della teoria ancorché comprensibile mi piaceva raccontare un fatto e il fatto è questo voglio condividerlo con voi una storia che io amo e che ho trovato bellissima e commovente quando l'ho scoperta e che continuo a trovare bellissima e commovente quando la racconto nel 1990 in Vietnam esisteva un gravissimo problema di malnutrizione infantile la maggioranza dei bambini e la stragrande maggioranza dei bambini nelle zone rurali era malnutrita questo dipendeva da vari fattori tipici di un paese profondamente incagliato nel terzo mondo qual era il Vietnam di circa trent'anni fa la miseria la penuria di cibo la penuria di acqua potabile l'ignoranza delle regole basiche dell'igiene alimentare per questo motivo Save the Children che è un'organizzazione che molti di voi conoscono si occupa di bambini in tutto il mondo inviò in Vietnam un suo funzionario di nome Dave Sternin per cercare di affrontare il problema questo signore arrivò lì con un collaboratore giunto nel paese fu subito convocato da un altro funzionario ministeriale da noi e questo gli disse che lui non era gradito gli americani non erano molto graditi ancora che avevano accettato che arrivasse nel paese per questioni di diplomazia ma che gli venivano concessi sei mesi di tempo se in sei mesi di tempo lui non avesse raggiunto ed esibito risultati concreti nella lotta alla malnutrizione infantile avrebbe dovuto fare le valigie ora fermiamoci un attimo a riflettere era una cosa impossibile un uomo con un assistente un paese con decine di milioni di abitanti sterminato con un problema di questa enorme gravità e con chi doveva essere il suo riferimento cioè il governo che gli dice hai sei mesi o ci fai vedere qualcosa o te ne vai tendenzialmente ci saremmo arresi questo signore non si arrese e che fece cominciò a girare i villaggi perché come vi dicevo il problema era soprattutto delle zone rurali i villaggi rurali e in ogni villaggio andava alla ricerca non dei bambini malnutriti che erano il problema ed era noto non a cercare di capire perché fossero malnutriti perché anche questo era noto lo abbiamo già detto prima no lui andò a cercare i bambini ben nutriti perché in ogni villaggio c'erano dei bambini ben nutriti a parità di miseria a parità di condizioni economiche e ambientali una quota minoritaria dei bambini che abitavano in quei villaggi era composta da bambini del tutto ben nutriti e in ottima salute lui ovviamente fece anche diciamo una selezione accurata eliminò i figli di famiglie più ricche o i coloro che avevano un parente nella direzione del partito comunista che allora lì aveva un suo rilievo per quanto riguarda le condizioni materiali e prese bambini poveri come gli altri ben nutriti e poi cerco di capire perché notate la straordinaria finezza della procedura lui non andò a cercare il problema andò a cercare la soluzione già pronta se c'era esattamente nello stesso contesto e perché questi bambini erano ben nutriti erano ben nutriti perché ragioni banali concrete le loro mamme gli davano da mangiare quattro volte al giorno invece di due volte al giorno come gli altri che mangiavano con gli adulti lo stesso quantitativo di cibo badavano tutte e quattro le volte che i bambini finissero quello che era nella loro ciotola cosa che le altre non facevano e voi dovete sapere lo sapete già che un bambino che ha la dissenteria che è malnutrito che è disidratato entra in un circolo vizioso per cui non ha voglia di mangiare se non lo imbocchi non mangerà e la situazione continuerà a peggiorare quindi badavano che i bambini mangiassero e preparavano il pasto per i bambini utilizzando un certo tipo di patate un certo tipo di gamberetto d'acqua dolce che la tradizione come si dice gastronomica vietnamita diceva non essere cibi adatti ai bambini in maniera del tutto arbitraria questi alimenti davano le proteine in generale i nutrienti necessari ai bambini per stare bene villaggio per villaggio Sternin prese le mamme virtuose le portò nella piazza e fece insegnare alle altre mamme come dovevano fare in questo c'è un altro elemento geniale per me perché è nello stesso sistema che lui dopo aver scogitato la soluzione trovò il modo di produrre il contagio positivo di questa soluzione le donne del villaggio insegnavano alle altre donne del villaggio come salvare i loro bambini e alla fine dei sei mesi tutti i villaggi che lui aveva visitato erano senza bambini malnutriti lo fecero restare ci potete scommettere che lo fecero restare rimase ancora a lungo e quando andò via dal paese 50.000 bambini erano stati salvati dalla malnutrizione e il problema sarebbe stato risolto in quel paese grazie al processo di contagio positivo che genialmente capovolgendo l'approccio alle cose aveva adottato il signor Sterling che credo sia ancora vivo per me questo è il metodo della buona politica capovolgere l'approccio consueto ai problemi non andare a cercare quello che è rotto quello che non funziona o quello che ci divide a meno che non sia su questioni etiche assolutamente insuperabili cercare quello che funziona già e cercare di moltiplicarlo cercare quello su cui si può marciare insieme producendo effetti positivi con dei confini e questo visto che abbiamo citato l'ambiente davvero per concludere mi fa evocare perché il corollario di una storia come questa quello che per me dovrebbe essere il motto lo slogan di una buona politica e di una buona politica di sinistra perché politica di sinistra significa essenzialmente consapevolezza che c'è un tema centrale e che quel tema centrale è la solidarietà non solo fra noi che siamo qua fra chi è più ricco e chi è più povero chi è più avvantaggiato e chi è più svantaggiato ma anche e soprattutto una solidarietà verticale che ci lega a chi ora non c'è e ci sarà in futuro la solidarietà fra le generazioni quella percezione diceva Bertrand Russell di essere parte della grande corrente della vita di cui facciamo parte tutti quanti è il motto per dire questo è un bellissimo proverbio pelle rossa che suona in questo modo noi non abbiamo ereditato la terra dei nostri padri l'abbiamo ricevuta in prestito dai nostri figli ed è a loro che dovremo restituirla grazie a tutti grazie grazie Gianrico grazie a tutti l'amore amore amore ha vinto vince vincerà l'amore amore amore ha vinto vince grazie a tutti